Lo stile che infiamma la moda è solo da Fuego. Per te, donna, sempre a caccia di novità, Fuego offre il meglio della moda. Gaudì, Relish, Danny Rose, Silvia Nici, Artigli, Cocconuda, Wrangler, Levis, Retro. Fuego accende la passione per la moda. Abbigliamento lui e lei a prezzi scontati anche sulle nuove collezioni Primavera-Estate 2014. Via Nazionale, uscita autostradale Montesano-Scalo. Telefono 0975 86 60 17. Grazie.